La vita in generale, parte seconda. Uno, ogni giorno che continuo a respirare. Che ore saranno? Le tre? Le quattro? Si sente abbaiare. Il palazzo di ringhiera è alle loro spalle. In fondo, al rettilineo dell'arteria che infila come un ago l'area nord-est della città, si intravede la sequenza incoerente di edifici che nel corso dei decenni l'hanno affollata. La tagliano i ponti della ferrovia e intorno a quelli, o addirittura sotto, autorimesse, magazzini, officine, che ora sono solo claire abbassate e ammaccate. Camminano insieme, il vecchio e la ragazza. Per un po' stanno in silenzio. Allora, come va? Chiede poi lei, tanto per dire. Come va cosa? Ribatte lui. Lei si stringe nelle spalle. La vita? La vita in generale? È un gioco di parole? Ci sta, non credi? Rita nota che gli ha dato subito del tu, come ha fatto con tutti quegli altri barboni, quando stava cercando lui. Vorrebbe chiedergli scusa anche di questo, spiegargli che non è una mancanza di rispetto, perché anche se lo ha appena incontrato per la prima volta, è come se lo conoscesse da sempre. Vorrebbe dirgli questo, Rita, ma è lui a parlare. La mia vita, in generale, è che vivo, o che sono vivo, come preferisci, tutto qui. Eppure non è poco, anzi, è molto più di quanto la gente normale immagini. Vivere è già un successo, una soddisfazione. Riuscire a mangiare ogni giorno, riuscire a trovare un posto dove dormire la notte e svegliarsi tutti interi il mattino dopo. Capisco, dice Rita, senza ancora capire. È una brutta vita, vista da fuori, riprende il generale. Beh, lo è anche da dentro. Però è mia, e me la tengo stretta. Ogni giorno che continuo a respirare, ho vinto. Capisco, dice di nuovo Rita. E stavolta ha capito. Continuano a camminare in silenzio, finché il generale non trova un posto che va bene. Mettiamoci qui, dice. Due. Ti sei voltato e te ne sei andato. Rita è un bel nome, dice il generale, e pensa che non è certo la cosa più bella di lei, per poi sentirsi subito imbarazzato, quasi in colpa. Quella potrebbe essere sua figlia, pensa, rendendosi conto di come, in questo caso, non sia soltanto la solita frase fatta. La mamma mi ha sempre detto di essere stata a lei a sceglierlo, racconta Rita. Ci teneva che lo sapessi. Il cognome, Contini, ovviamente l'ho preso da mio padre, ma lei ha deciso il nome. Me lo ha ricordato spesso. Sino alla fine, allarga le braccia. Il generale sembra improvvisamente scrutarla. Mi dispiace, dice. Non riesce a chiedere come è successo. Non lo vuole sapere. Sono seduti su una panchina di un giardinetto da soli. Il generale ha lasciato a Zingaro il comando delle operazioni nel palazzo di Ringhiera. È andato via con Rita per parlare. Per ascoltarla, soprattutto, perché lei deve parlare. Lo ha cercato per parlargli. È riuscita a trovarlo. Anche solo per quello meriterebbe attenzione. Ma c'è dell'altro. Molto altro. Carlo, l'amico di Rita, ha rognato un po'. Voleva venire anche lui per controllare la situazione. Deve volerle bene. O forse qualcosa di più. Come biasimarlo? Rita è bella in un modo semplice e straordinario. Bella da perdere la testa. Mario Castelli non ha più l'età, ma lo capisce bene. Per una ragazza così, lui una volta ha perso la testa, ma non abbastanza. E la ragazza di oggi è così simile alla ragazza di allora, che per un attimo, quando se l'è ritrovata davanti, Mario ha creduto di essere tornato indietro nel tempo. Ma Rita è solo una parte di lei. Non è lei. Il generale l'ha osservata, proprio mentre spiegava, no, ordinava a Carlo di restare lì, nella casa di Ringhiera, ad aspettarla. Anna Lisa non era così decisa. Anna Lisa si arrendeva. Parlava spesso di te, sai? Soprattutto da quando la situazione con papà era diventata chiara. In che senso? Hanno smesso di amarsi, dopo che sono nata io, ma non so quando di preciso. Forse è stato un processo lento. Fatto sta che, ripensandoci, non riesco a ricordare un momento in cui si siano amati. Deve essere stato brutto, dice il generale. Meno brutto di quanto possa sembrare. I miei genitori si volevano bene e condividevano comunque un amore, quello per me. Non mi hanno mai fatto mancare nulla. Ah, dice il generale, quindi avevi tutto? Si pente subito del suo sarcasmo fuori luogo. Per fortuna Rita non ci fa caso e continua. Papà aveva le sue storie, lo sapevano tutti, anche se non lo faceva alla luce del sole. Decoro borghese, commenta il generale. Rita scuote la testa. Non essere così duro, lui cercava di non creare disordine. Forse pensava a me. Quando avevo 16 anni l'ho beccato. Non è stato facile da mandare giù. Però ricordo che abbiamo avuto un bel chiarimento tra padre e figlia. Il generale sogghigna. Commovente. Non sai nulla. Perché giudichi? Lui c'era. Tua madre mi aveva tradito, sbotta il generale. Si sente meschino. Quelle cinque parole gli sono venute fuori come qualcosa di rancido. Scusa, dice. Scusami Rita. So di cosa parli, dice Rita. Lei mi ha raccontato di quella sera in birreria, quando l'hai trovata con bomba. La mamma aveva una teoria al riguardo. La vuoi sentire? Certo che la vuole sentire. No, che non la vuole sentire. Pensava che tu avessi avuto quella che cercavi. Una scusa per poter scegliere la fabbrica e lasciare lei. Perché in quel momento lei era di troppo. Avevi bisogno di concentrazione. In fondo stava solo baciando un altro. Era davvero sufficiente per abbassare la sala cinesca per sempre? Mi ha raccontato che non le hai nemmeno fatto una scenata. Non le hai chiesto spiegazioni. Ti sei voltato e te ne sei andato. E basta. Così hai potuto sentirti libero. Il generale è confuso, smarrito. Il mondo sta perdendo le sue coordinate. Vorrebbe ribattere qualcosa. Vorrebbe riuscire a dare torto a Rita. E prima ancora ad Anna Lisa. Lei, Anna Lisa, ti parlava così tanto di me, chiede invece. Sì, te l'ho già detto. Eri una sua ossessione, ma non in senso negativo. Metteva via gli articoli che ti riguardavano. Si informava attraverso conoscenze comuni. E tuo padre non diceva nulla? Beh, la mamma evitava di tirare fuori l'argomento quando c'era lui. Anche se qualche volta capitava. Ma in fondo lui era disposto a sopportare una passione della Moni a fronte di tutte le sue storie. E poi, come poteva esserci gelosia senza amore? Una famiglia ben strana. Ma funzionava. E più di quanto si possa dire di molte famiglie cosiddette normali. E tuo padre che fino ha fatto? Rita sorride. Ma è un sorriso senza allegria. Sta a casa tutto il giorno. È depresso. Si sta lasciando andare. Ha rinunciato a combattere. In questo mamma lo aiutava. Era un'altra cosa che li teneva uniti al posto dell'amore. Per cosa dovrebbe combattere? Chiede il generale. In cosa? Annalisa lo aiutava. Sono due domande, ma la risposta è una soltanto. La ditta, dice Rita. L'azienda di papà. La nostra azienda. Ora anche mia. Suo malgrado, Mario Castelli trova l'argomento interessante. Non riesce ad evitare di chiedere Che tipo di azienda? Si chiama It Allum. Produce profilati di alluminio. Cinque stabilimenti che fino a qualche anno fa andavano bene, spiega Rita. Tra alti e bassi i cotti quadravano sempre. Poi che cosa è successo? C'è stata la crisi dell'edilizia. Chi lavorava con l'estero nel settore se l'è cavata. Ma noi non siamo stati abbastanza furbi e svelti. Parli come se c'entrassi anche tu, Rita. È così, infatti. Già, quando ero all'università, ho cominciato a cercare di capirci qualcosa. Sapevo che quello era il mio futuro e mi portavo avanti. Sono sempre stata una secchiona. Rita sorride in un modo che scioglierebbe il circolo polare artico. Sai che ti ho studiato, generale? Hai studiato me? Ho fatto la tesi di laurea sulla tua storia e la mamma mi ha pure aiutato. Bocconi, immagino. Indominato. Uscita con centodieci e lode, anche grazie a te. E se stai cercando di lusingarmi, lascia perdere. Al generale sembra tutto così assurdo. Immagina la situazione, vista da fuori. Un vecchio derelitto, seduto a fianco di una meravigliosa ragazza che lo guarda ammirata. Se non altro, lui ha un bel giubbotto di pelle. Dicevi della vostra azienda? È messa male. Un gigantesco casino. Sembrava che tutti dovessero darci fiducia. Invece, Rita abbassa la testa e la scuote. Invece, la fiducia è proprio quello che ci manca. Soprattutto da quando papà è ridotto così. Il generale guarda Rita e prova compassione. Lui che non ha nulla, che è un rifiuto umano, che ogni giorno deve inventarsi qualcosa per campare. Lui prova compassione per questa ragazza di buona famiglia che comunque vadano le cose e sulla strada non ci finirà di sicuro. Non finirà come lui. Allora gli viene voglia di prendere e andarsene. Di lasciarla lì, negandole quella compassione grottesca. Invece, resta dov'è. E io che cosa centro, Rita? Perché mi hai cercato? Adesso ci arriviamo, generale. Lasciami finire. Prego, uno dei non numerosi vantaggi della mia attuale condizione e che non ho mai fretta. C'è stata un'offerta. Un'accordata franco-cinese, pensa tu. Gestita da una società di intermediazione finanziaria con sede a Milano. L'offerta è ridicola. Vogliono prenderci per fame. Fame, pensa il generale. Ragazza, tu non sai nemmeno cosa significa questa parola. Lo pensa ma non la interrompe. Nemmeno 500 milioni per diventare soci di maggioranza e assumere il controllo. Scandaloso, dice il generale. Pura elemosina. Rita ignora l'ironia o forse non l'ha percepita. Io so come andranno le cose. C'è di mezzo un professionista specializzato in questo genere di operazioni. Ho avuto informazioni precise al riguardo. Uno squalo che smembra prede per tenersi i bocconi migliori e sputare il resto. Lo chiamano proprio così. Lui è lo squalo per eccellenza. Non molto originale ma chiaro. Il generale comincia a capire. Quella musica si suonava anche ai suoi tempi. Farà a pezzi l'azienda. Precisamente, generale. L'investimento iniziale dell'accordata franco-cinese farà comunque salire le quotazioni. Il mercato ci crederà. Daranno segnali positivi. Sanno come fare. Poi si libereranno dei rami secchi. Chiuderanno i settori di impresa meno produttivi. Licenzieranno un mucchio di gente. Terranno soltanto quello che rende e poi lo suddivideranno per rivenderne le parti a una a una. La nostra azienda non esisterà più. Ma voi ora non potete rifiutare la loro offerta? No, non possiamo. Siamo fuori con troppi debiti. Abbiamo le banche che pressano. L'alternativa sarebbe chiudere tutto subito. A meno di non convincere qualcun altro a metterci soldi. Molti più di quanti ne offre lo squalo, possibilmente. Ma soprattutto questo qualcuno dovrebbe credere nel futuro dell'azienda. E qui arriviamo al motivo per cui ti ho cercato, generale. Qualunque cosa tu abbia in mente, Rita, io non sono più quello di un tempo. Hai cercato e trovato un barbone. Complimenti. Sai come ho capito che cosa eri diventato? Risponde Rita. Guarda fisso il generale con quegli occhi che perforerebbero il marmo di una lapide. Ho visto un video su YouTube. Il generale la lascia parlare. Era una vecchia intervista che ti avevano fatto fuori dal tribunale. Dicevi che un giorno saresti finito per strada, spiega Rita. Non sembravi aver paura. Te la saresti cavata, rimanendo te stesso. Così, guardando quel video, ho pensato che poteva davvero essere andata così. E stanotte non ho avuto la conferma. Ti ho visto mentre guidavi tutti quei... Un'esitazione. Barboni, Rita. Io e i miei amici siamo tutti barboni. Ci piace essere chiamati così? Già, me lo aveva detto anche un tizio dei centri d'accoglienza, dice Rita. Beh, tu sei rimasto davvero te stesso, il generale. Hai ancora il tuo carisma. Sai ancora vincere. Proprio in quel momento si sentono le sirene di un'ambulanza. Il generale presume che Moroni e i suoi sgherri stiano per partire verso un ospedale. Significa che la truppa ha concluso il lavoro e adesso sta aspettando il punto di ritrovo convenuto. Si sente fiero di loro. Fiero e grato. Chissà, Carlo, dice Rita. Sarà duramente provato? Gli ho chiesto molto stanotte. E a me, Rita? A me cosa chiedi? Voglio che tu rappresenti la nostra azienda, generale. Devi convincere qualcuno a metterci dei soldi, tanti soldi, e devi convincerlo a crederci. Sono certa che troverai il modo. Basterà la tua presenza. Ma la mia presenza di solito basta per far girare la testa altrove, alla gente normale. Ok, certo, bisognerà che tu ti dia una... Rita imbarazzata. Una sistematina, ecco. Non ti piace il mio giubbotto? C'è gente che farebbe appugni per averlo. Dai, hai capito che cosa intendo? No, Rita, non ho capito, dice il generale. E chi sarebbe questo qualcuno che dovrei convincere? Il direttore di una banca d'affari, la Multicom Merchant Bank. Lui si chiama Matteo Rasori. Il nome non mi dice nulla, ma ai miei tempi non ero io a trattare con le banche, purtroppo. Certo, lo so, dice Rita. So bene com'è andata. Allora sai che cretino sono stato, lo dice di corsa come fosse una reazione automatica, che tuttavia si lascia subito riempire di senso e di tempo. Ora le parole stanno lì nell'aria, spesse, tangibili, e chiedono una pausa. Poi Rita continua. Oltre che direttore, rasori e amministratore delegato e socio principale, può decidere tutto da solo, in pratica, ed è disposto a valutare un serio investimento nella nostra azienda. Bisogna soltanto convincerlo. Qui entri in gioco tu. In generale scoppia a ridere. Ride di Rita e ancora più ride di se stesso. No, davvero, tu vorresti che io rappresentassi la tua azienda? Tu dimentichi le tracce che ha lasciato il mio nome come suonerebbe. Boom! Mario Castelli. Ti ho già detto che su tutto, generale. Forse so anche più di te. Allora spiegami perché qualcuno dovrebbe fidarsi del sottoscritto. Da quanto vivi per strada, generale? Da quando sono uscito di prigione? Beh, tu non puoi saperlo, ma intanto le cose sono cambiate. La gente ha fatto in tempo a dimenticarti e a creare una memoria nuova. Il tempo ha fatto giustizia, almeno per te. In che senso? Gli anni 90 non sono serviti a nulla. Io ero poco più che una bambina, ma qualcosa ricordo. Se ne parlava in casa, la gente pensava che chi doveva pagare avrebbe pagato. Che tutti quegli stronzi, corrotti e corruttori sarebbero usciti di scena. Invece sono cambiate soltanto le bandiere, non chi si sta sotto. Tana, liberi tutti. Quasi tutti, la corregge il generale. Ecco appunto, qualcuno ha pagato il conto anche per gli altri. Si sono alzati da tavola, lasciando lì un povero Cristo con in mano un pezzettino di pane, inzuppato, quando è arrivato l'oste. Tu, generale, non sei scappato. Sei rimasto e a testa alta. E la gente con il tempo se ne è resa conto. Anche chi allora era pronto a linciarti. Se provi a googlare il tuo nome, so che si fa, ma non so come si fa. Rita scuote una mano. Vuole dire che sei diventato una specie di culto. Non per tutti, certo, ma in facoltà hai dei veri e propri fan. In generale soghigna. La storia di come ti ha fregato il tuo direttore finanziario è risaputa. E per questo chi mi ammirebbero? Perché sono stato un idiota? La mamma mi ha raccontato di Sebastiano. Eravate amici, ti sei fidato di lui fino all'ultimo. Trovo che in questo ci sia stato qualcosa di eroico. In effetti, ho sempre pensato che idiozia e eroismo sono fratelli. Per gli altri barboni, ora Rita usa quella parola senza esitare, che ho conosciuto stanotte, tu sei un eroe. No, loro sono stati degli eroi per me. Era a me che cercavano Morini e i suoi sgherri. I miei amici mi hanno protetto. Non è di questo che stiamo parlando adesso, dice Rita. Voglio convincerti ad aiutarmi a salvare la mia azienda. Te lo chiedo in memoria di mia madre, una donna che hai amato. E che ha amato te. Nel generale si apre una crepa e la dirga cede. Quindi dovrei incontrare il socio di maggioranza di quella banca d'affari? Non solo lui, risponde Rita. La cosa è complicata. Il generale inarca un sopracciglio cespulioso. Più complicata di così? Rita Contini prende fiato prima di ricominciare a spiegare, ma intanto si accorge che non sono più soli nel deserto della notte. Qualche auto arranca su per la via. Certi camion avanzano con discrezione verso il centro città. Il cielo è, come sempre, più arancione che nero. Un colore bastardo che sta come un stendardo appeso. 3. Sulla linea di confine tra il verde e l'azzurro. L'entrata in scena dell'AMMB, la Multicom Merchant Bank di Matteo Rasori, non ha potuto restare segreta, come Rita avrebbe preferito. La notizia è arrivata fino alla Mediantibus, società di intermediazione finanziaria che gestisce l'accordata franco-cinese, quella per cui lavora lo squalo. All'inizio la cosa poteva avere dei risvolti positivi. Rita ci ha pensato, ci ha sperato. C'era la possibilità, cioè, che partisse un gioco al rialzo, con ovvi benefici per la Italum. Se anche Rasori alla fine si fosse arreso, se non altro l'offerta franco-cinese non sarebbe stata così miserabile. Ma lo squalo, Rita continua a chiamarlo così, è stato furbo. Invece di opporsi a Rasori, ha deciso di farselo alleato. Lo ha contattato e gli ha proposto di entrare nell'affare, dalla sua parte, nella cordata che così diventerebbe italo-franco-cinese. L'investimento della MMB sarebbe molto inferiore rispetto al previsto e questo ovviamente è un vantaggio. Di contro dovrebbe accontentarsi di una fetta di torta più piccola. Inoltre, Rita è sicura che Matteo Rasori sarebbe disposto a scommettere su una vera rinascita della Italum, senza farle a pezzi, come invece è nei piani dello squalo. Ne ha parlato proprio con lui, Rasori, che le ha fatto un'ottima impressione, anche come persona. Dalla decisione di Rasori dipende dunque il destino delle Italum. Tutto questo, mentre banche e creditori assortiti stanno per sguinzagliare i cani. La trattativa deve arrivare al termine subito, in un mondo o nell'altro. Servono soldi. Così a Rita è venuta un'idea. Ha proposto di vedersi tutti e parlarne. Matteo Rasori, lo squalo, i delegati delle banche e Rita, a rappresentare la Italum. Tu rappresenterai l'azienda, chiede il generale. Ho la delega di mio padre, amministratore delegato e socio di maggioranza. Ma quanti anni hai? Tu quanti ne avevi quando hai cominciato a dirigere la fabbrica? Il generale le fa segno di continuare. L'incontro si svolgerà in campo neutro. Dopo un convulso giro di mail, la decisione è caduta sul fortitudo Milan Hotel, un nuovissimo 5 stelle aperto in occasione dell'Expo. Lo stato dell'arte è infatto di struttura berghiera. Rita ci passa sempre vicino quando va a correre al parco. Ed è andata lì a informarsi una prima volta, proprio dopo aver finito una corsa, in pantaloncini corti e maglietta, fradiccia di sudore. Eppure sono stati tutti molto gentili, dice Rita. Non ne dubito, dice il generale guardandola. La prima luce dell'alba si riflette negli occhi di Rita, dello stesso colore di Anna Lisa sulla linea di confine tra il verde e l'azzurro, come prato che all'orizzonte diventa cielo. L'incontro si svolgerà tra un paio di settimane, il primo mercoledì di maggio, nel pomeriggio, preceduto da un pranzo nel rinomatissimo ristorante del Fortitudo. Tutto offerto dalla Italum, nella speranza di mettere a proprio agio rasori. Costerà un occhio della testa, ma ormai di soldi ne sono andati persi così tanti. Non sarà questo a far affondare nave. L'obiettivo di Rita è convincere il rasori. A tale scopo si è anche impegnata a esporre un piano di risanamento per la Italum. Ha già buttato giù una bozza. La manderà al rasori prima dell'incontro, in modo che lui e i suoi collaboratori abbiano il tempo di esaminarla con attenzione. Durante l'incontro si limiterà a esporne le conclusioni. Ma il suo asso nella manica, in quell'occasione, sarà il nuovo direttore di produzione dell'azienda, Mario Castelli, il generale. Sarà lui con la sua sola presenza ad assicurare i rasori della bontà dell'investimento. La sola presenza non basta, dice il generale. Quale sarebbe questo piano di risanamento? Non l'ho ancora ben chiaro. È proprio una prima bozza. Però ci sono quasi. Capisco. E di questo Matteo rasori che cosa mi dici? Che tipo è? Rita allarga le braccia. Boh, non lo so. Sembra uno a posto. Uno a posto, dice il generale. Certo. Poi chiede. Verrà da solo? Potrebbe portarsi uno dei suoi soci, che ho visto in paio di volte, ma è sempre stato zitto. Ascoltava e basta. Quando c'eri tu, Rita, puntualizza il generale. E i delegati delle banche? Saranno tre, uno per banca. Vogliono solo controllare che qualcuno sganci i soldi, che vinca lo squalo o rasori, oppure che si alleino, per loro non cambia. Il generale si prende una pausa, in silenzio. Guarda dall'altra parte della strada, attirato dal vociare di due tizi, fuori da una panetteria con la serrande già alzata, e li insegna in caratteri arabi. Sembrano litigare, ma forse è solo la loro lingua che dà quell'impressione. E infatti adesso passa un ragazzo che li saluta con un ciao ed entrambi si girano a rispondergli allo stesso modo, tranquilli e sorridenti. Il generale sente altre voci e rumori. È appena l'alba, ma qualche finestra dei palazzi è illuminata. Milano si sta svegliando, o forse non si è mai davvero addormentata. È una città che finge, sempre. Finge anche di dormire, come un predatore astuto. Il generale ripensa a quanto è accaduto nella notte appena finita, alla battaglia dentro la casa di Ringhiera, a quello che la sua truppa ha fatto per lui. Ripensa all'attimo in cui gli è parso di trovarsi davanti ad Anna Lisa, ai chiarimenti successivi. Ripensa a cosa gli ha raccontato Rita riguardo alla madre, ad Anna Lisa che non potrà più tornare. Ripensa al piano di Rita. Che gli siede accanto. Il generale si volta verso di lei, gli occhi adesso sembrano avere scelto l'azzurro. Allora, dice Rita, mi aiuterai? Quattro. Sì, dice il generale. 5. Io voglio il mio esercito. Ma a una condizione, precisa il generale, mettendosi in piedi con un movimento non proprio fluido. Dovranno esserci anche loro, dice questo e si incamina. Sente la voce di Rita dietro di sé. Di chi stai parlando? Dei miei amici, quelli che hai visto stanotte. Rita lo raggiunge e gli si mette davanti. Tutti gli altri barboni? Il generale continua a camminare, costringendola ad indietreggiare. Non tutti, anche se mi piacerebbe. Soltanto quelli. Ci aiuteranno. Aiuteranno come? Chiede Rita. Non sembra ostile, soltanto confusa, preoccupata. Si volge verso due figuri fuori dalla panetteria. La stanno fissando. Allora Rita smette di camminare all'indietro e si mette a fianco del generale. Non posso lasciarli dopo quello che abbiamo passato assieme, le spiega il generale. E loro non possono lasciare me. È gente in gamba. Lo hanno appena dimostrato. Vedrai che si renderanno utili. È quello che vuoi, dice Rita. Tu vuoi che si sentano utili. Il generale interrompe la marcia, fissa Rita e le dice Io voglio il mio esercito. Per vincere una battaglia. Rita sorride. Ma te le cavi bene con le frasi a effetto. Il generale ricambia il sorriso. Dovresti saperlo se mi hai studiato. Facevo dei gran bei discorsi e sto per farne uno anche adesso. Riprendono a camminare insieme.